In questo video svolgiamo l'esercizio in cui, dato un punto P e un vettore V, vogliamo trovare la retta passante per il punto P e parallela al vettore V. Il punto P ha coordinate 1, 2, 3. Il vettore V assegnato è della forma i più 2j meno k, dove ricordo che i, j e k sono i versori rispettivamente dell'asse delle x, dell'asse delle y e dell'asse delle z. Cominciamo quindi a risolvere questo esercizio ricordando l'equazione di una retta in forma parametrica. x con 0, y con 0 e z con 0 sono esattamente le coordinate del punto assegnato, ossia x con 0 è uguale a 1, y con 0 è uguale a 2, z0 è uguale a 3, mentre v1, v2 e v3 sono i parametri direttori del vettore V assegnato, ossia i coefficienti di i, j e k. Quindi avremo che v1 è uguale a 1, v2 è uguale a 2, v3 è uguale a meno 1. Non ci resta che sostituire questi dati in questa equazione. quindi x di t uguale a 1, x con 0, più 1 per t, y di t, 2 più 2 per t, ed infine z di t è uguale a 3 meno t. Quindi questa è la nostra retta in forma parametrica. Possiamo chiederci a questo punto quale sia l'equazione di questa retta trovata però in forma cartesiana. ricordiamo qual è l'equazione di una retta in forma cartesiana. Abbiamo già tutti i dati a nostra disposizione, quindi ancora una volta non ci resta nient'altro che sfruttare tale dati e sostituire in questa equazione. quindi avremo x meno 1 diviso 1 uguale a y meno 2 diviso 2 uguale a z meno 3 diviso l'ultimo parametro direttore, cioè meno 1. Questa è la forma cartesiana della retta cercata. Abbiamo poi un'ultima forma, estremamente interessante, che coinvolge i piani. Quindi vediamo di trovare questa equazione della retta, vista però come intersezione di due piani. Focalizziamoci quindi sulla prima eguaglianza. Quindi riscriviamo x meno 1 diviso 1 uguale a y meno 2 diviso 2. Questa eguaglianza porta a scrivere quindi questo il primo piano. Sfruttiamo ora la seconda eguaglianza che abbiamo qua, ossia y meno 2 diviso 2 uguale a z meno 3 diviso meno 1. Se svolgiamo i conti, ecco quindi che abbiamo trovato il secondo piano. Possiamo quindi mettere questo piano e quest'altro piano a sistema. Ecco che abbiamo trovato la retta, questa volta come intersezione di due piani. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 13, 14. Grazie a tutti.